Andiamo su dalla voce Il triangolo inverso della pattuglia acropatica nazionale che sale verso l'alto con il verde Il bianco ed il rosso della nostra bandiera sarà una trasformazione a rombo all'arco di questa manatra Il bianco e il rosso della nostra bandiera sarà una trasformazione a rombo all'arco di questa manatra Il bianco e 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 il bianco Che le frecce tricolori vogliono deschiare a tutti i bianco Il suo altimetro sospeso per un attimo nel cielo per poi lasciarsi cadere all'interno dei suoi stessi fumi Lasciarlo riprendere efficientemente Il suo altimetro sospeso per un attimo nel cielo Ancora una volta sospeso nel cielo, ancora una volta Lasciandosi poi cadere all'interno dei suoi stessi fumi E questo è l'omsovac del numero doppio Tonno dalla voce del capo formazione Spettacolare apertura della bomba Scattatemi Grazie a tutti. Grazie a tutti.